Sviluppato dal team che ha dato i natali a Lords of the Fallen, desurge un action RPG con un combat system interessante e innovativo. Il gioco si allontana dalla solita ambientazione fantasy e serza bruscamente verso la sci-fi, puntando l'orologio della macchina del tempo verso un futuro che vede il nostro pianeta oramai alla fine dei suoi giorni. Dilaniata dai continui disastri ambientali e da una popolazione sempre più anziana, la società è sul punto di crollare. Il protagonista è uno dei derelitti costretti ad accettare pericolosissime mansioni che richiedono l'uso costante di esoscheletri potenziati, doppiamente sfortunato perché vedrà il mondo crollare proprio durante il suo primo giorno di lavoro. Davanti al nostro eroe, quelli che fino a pochi attimi prima erano semplici colleghi e che ora hanno l'aspetto di cibernetici zombie, capaci di farci saltare la testa senza il ben che minimo rimorso. In The Sorge il combattimento è il solito mix di strategia e precisione, in cui il tempismo e la difesa giocano un ruolo fondamentale. La grande novità è rappresentata dalla possibilità di mirare individualmente gli arti dei nemici. Se riusciremo ad amputarne uno avremo la possibilità di raccogliere e utilizzare la parte di esoscheletro che quello specifico arto indossava. Ogni esoscheletro ha sue caratteristiche ben precise che andranno a modificare sostanzialmente le nostre capacità. Questa possibilità apra strategie completamente nuove. I nemici non sono più soltanto una minaccia da eliminare il primo possibile, ma anche una fonte potenzialmente inesauribile di armi e armature. Nel mucchio bisogna imparare a distinguere velocemente gli avversari, per poi suddividerli tra obiettivi prioritari e quelli su cui lavorare al millimetro, ossia i nemici che presentano parti di equipaggiamento potenzialmente interessanti. Il game over, proprio come in Lords of the Fallen, è sempre dietro l'angolo. Nel caso in cui si cada in battaglia, e accaderà abbastanza spesso, è possibile tornare in vita sfruttando una delle camere di sicurezza presenti in ciascun livello. Le camere di sicurezza andranno attivate prima di essere utilizzate e non garantiscono al 100% il recupero di tutto l'equipaggiamento. The Sourge funziona e sorprende. Il sistema di combattimento promette faville. Le parate danno soddisfazione e respingono i nemici o ci schiacciano al terreno a seconda del nostro equipaggiamento e del colpo ricevuto. Ogni singolo attacco è una scommessa e se la foga prende il sopravvento si rischia di rimanere, in men che non si dica, senza resistenza o stamina. La grafica è estremamente pulita, dettagliata e, sebbene il livello mostrato fosse ancora lo stato embrionale, già presentava un buon grado di caratterizzazione. Il titolo è previsto per il 2017. È fantastico che i Deck 13 abbiano ancora così tanto tempo a disposizione.